Non ci credo, funziona! Acqua fredda, zucchero, un cucchiaino di caffè solubile. Mettiamo il nostro coperchietto con la palettina. Schiacciamo il pulsantino e... Funziona! Rischiacciamo il pulsantino e abbiamo una crema caffè degna di nota. Guarda il video fino alla fine per scoprire come avere questa tazza automiscelante per la tua crema di caffè oppure il tuo cappuccino del mattino. Amici, oggi ci andiamo giù pesanti, ben 130 euro spesi su Temu, mica noccioline! I pacchi sono qui, belli cicciotti, e io ho le dita incrociate. Questi saranno i 130 euro meglio spesi della mia vita o un chiaro segnale che devo nascondere la carta di credito? Shhh! Piccolo spoiler! In questo momento la mia carta di credito è in crisi esistenziale! Capper pronto, curiosità alle stelle e speriamo che sia tutto intero. Se non altro, almeno la confezione è arrivata sana e salva. Vediamo che cosa ci riserva questo mistero. Sarà una gioia o un meme da condividere con gli amici? Diamo il via all'operazione sorpresa o delusione. Intanto che io spacchetto, se non sapete che cosa è Temu, tranquilli, non è né un nuovo Pokémon e né un viaggio esotico, anche se con questi prezzi sembra veramente di aver vinto alla lotteria. Per chi ancora non lo sapesse, Temu è una piattaforma di e-commerce nata nel 2022 che offre una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati. E voi direte, la fregatura dove sta? La fregatura non c'è, perché Temu segue una strategia di direct to consumer, ovvero mette a contatto direttamente il cliente con i produttori e i fornitori. Il modello di business di Temu è simile ad altri siti di e-commerce, di cui non faccio i nomi, però si distingue da questi perché offre spedizioni gratuite, offerte, promozioni e sconti. E a proposito di sconti, non può mancare il mio. Digitate il codice DMP7652 sulla barra di ricerca di Temu e sarete reindirizzati ad una pagina di sconti. Oppure potete cliccare il link che vi metterò qui giù in descrizione. Per avere sconti del 90% sui prodotti che ho ordinato io, più un ulteriore buono da 100€. Ok, adesso basta chiacchiere ed è arrivato il momento tanto atteso. Via il primo strato e inizio a vedere qualcosa, tenetevi pronti. Il primo pacchettino è andato, sbogliamo anche questo enorme e inizio ad intravedere qualcosina. Iniziamo da parte. Vediamo in questo piccolino nero che cosa troviamo. Uh! Questi sono dei carinissimi conetti d'incenso. Uh, che profumo! Perché dovete sapere che io adoro candele, incensi e tutti gli altri gingilletti di questo genere per la casa. In quest'altro... Oh, questo me lo ero scordato. La confezione si presenta abbastanza bene ed è un power bank portatile per il nostro cellulare. Qui abbiamo il cavetto di ricarica, il manuale delle istruzioni e questo è il nostro carinissimo power bank. Vediamo subito se funziona. E questo è il nostro power bank portatile. Andiamo a togliere la pellicola. Accendiamo. Qui indica lo stato della carica e il nostro power bank, oltre ad essere con il cavetto e anche wireless. Quindi andiamolo a provare subito. Prendiamo il telefono e mettiamo il power bank in questo modo. Spingiamo il tasto di accensione. E come vedete qui si accendono queste tre spie. Una è quella wireless e l'ultima ci indica che sta caricando. Infatti... Proviamo il telefono da in carica. Proviamolo anche con l'USB. Inseriamo la nostra USB. e il telefono da in carica. Promosso al 100%. In quest'altro mega pacchettione iniziamo con un mini frullatore. E la scatola è un pochino ammaccata. Speriamo, speriamo che sia tutto intero. Oh ma che carino! Funziona? Come ti spegni? Guardate come mi frullo le mani eh. Abbiamo due barattolini. Il nostro frullatore, il motorino. E anche un comodo tappo per portare con noi il nostro frullato. Oddio che carino ragazzi, è bellissimo. Bene, proviamo subito anche questo. È arrivato il momento di farci un bel frullato. Vado ad inserire del melone già tagliato a pezzettini nel bicchierino. Metto un po' di acqua. E vado ad avvitare il mio frullatore. E vado ad avvitare bene. Prova del 9. Capovolgiamo. Schiacciamo il pulsantino. E wow! Rischiacciamo il pulsantino. E spegniamo il frullatore. Capovolgiamo nuovamente il bicchiere. Svitiamo. E alla salute. Uh! Alla scatola arrivata aperta, ma penso sia stato un problema del corriere e dello sballottolamento del pacco. ed è questo un gimbal per il cellulare con la funzione seguimi. Qui abbiamo il gimbal, una basetta da applicare sotto, oppure volendo lo possiamo attaccare tranquillamente al nostro cavalletto. La parte sopra è removibile. Basterà cliccare qui questa levetta e questa parte verrà rimossa. E possiamo, in alternativa, mettere l'altra basetta che ci danno come supporto. Qui abbiamo la telecamera, ma non riesco ad inquadrarvi gli omini. Qui c'è disegnato un omino seduto, mentre qui c'è disegnato un omino in piedi. Ecco, adesso si vede meglio. E la telecamera la possiamo alzare se siamo in piedi oppure abbassare se siamo seduti. Con un click di circa tre secondi accendiamo il nostro macchinario. Come vedete la lucina diventa verde. proviamo da in piedi. Possiamo girarlo anche in questo modo. Eccoci. E anche per le riprese orizzontali. butto ragazzi butto tutto a terra. Questa era quella che attendevo di più. Una tazza automiscelante. Perché dovete sapere che io adoro i cappuccini però con il frullino quello elettrico quello piccolo non mi trovo perché li rompo in continuazione. avrò comprato più frullini elettrici in vita mia e poi ho trovato questa bella chicca. Abbiamo il manuale delle istruzioni. È imballata bene? C'è la tazza dentro? Sì. abbiamo le tacche di millilitri due tipi di frustino uno è attaccato già e l'altro è proprio per il montalatte. Andiamo ad inserire le pile e il pulsantino per avviare il tutto. È questo cuoricino qua guardate che carino e adesso andiamo a farci un bel cappuccino. Versiamo anche il latte andiamo a cambiare la paletta e andiamo a mettere quella appunto per il montalatte. Le pile le ho già inserite andiamo a chiudere il coperchietto e premiamo il pulsantino. Possiamo spegnere svitare eh sì guardate quanta schiumetta cin cin. E a proposito di cappuccini per fare il cappuccino serve la macchina del caffè che presumo sia questa qui. Ho comprato queste cosine per la casa perché vi spoilero che molto presto cambieremo casa e quindi perché non acquistare delle cosine simpatiche graziose e nuove questa è una macchina per il caffè portatile libretto delle istruzioni che sicuramente andrò a leggere ragazzi non ho veramente la minima idea di come funzioni adesso andiamo a vedere le istruzioni e ci facciamo un bel caffè è arrivato il momento di vedere come funziona la nostra macchina per il caffè portatile allora come prima cosa questa macchinetta supporta tre tipi di caffè ovvero il Nespresso e abbiamo il supportino adatto per le capsule Nespresso il supporto per le capsule dolce gusto e addirittura abbiamo la possibilità di andare a fare il caffè esattamente come la moca questi sono i filtri e questo qui è il cucchiaino io ho le capsule della Nespresso e quindi andremo a provare a fare un caffè con le capsule Nespresso come prima cosa prendo il supporto inserisco la capsula all'interno e la vado ad infilare in quest'altro supporto dove ci sono questi quadratini che è quello appunto di foratura inserisco il pezzo in questo modo facendo combaciare non so se si nota le lineette all'interno queste qui questo è il tappo e questo è il serbatoio dell'acqua avvito in questo modo il serbatoio inserisco l'acqua all'interno e qui se notate abbiamo la scritta max che è il livello massimo dove deve arrivare l'acqua mettiamo il coperchio qui sotto andiamo ad avvitare il bicchierino svitiamo svitiamo il coperchio facendo una leggera pressione e girando a destra o a sinistra e premete una menzolina con tanto di gancetto che secondo me non regge non regge però la menzolina è molto leggera vedete che carina ha il cordino è un pezzetto di compensato e ve la farò vedere molto presto montata questo è un mini sigillatore magari per il pacchetto di pasta che abbiamo lasciato aperto per le patatine che non abbiamo finito per i biscotti della colazione e anziché chiuderlo con la molletta la classica molletta lo andiamo a sigillare bene con il mini sigillatore anche questo va a pile ne vanno due e sono sempre le mini stilo una scatola nella scatola 2 a 0 3 a 0 guardate che carina che profumo alla rosa ed è una carinissima candelina da decorazione chi mi conosce lo sa che adoro candele incensi già ve l'ho detto anche prima quindi oltre all'incenso non potevo non prendere una candelina anche questa scatolina è un po' ammaccatina ho fatto anche la rima e qui abbiamo una statuetta porta incensi quindi andiamo a mettere il nostro conetto di incenso sulla statuina lo accendiamo e sprigionerà tutto il suo profumo in quest'altro pacchettino ino ino questo lo pensavo molto più grande abbiamo non la chiappa luce come si chiama lo scacciapensieri che si è impicciato guardate però che carino se lo appendiamo al muro o vicino alla finestra questi ciondolini rifletteranno la luce e sarà veramente carinissimo da vedere e lo metterò sicuramente nel mio nuovo studio in quest'altro pacchettino ho preso un porta spirale quello anti zanzare perché io quest'estate le ho fatte reggere veramente con la molletta per il bucato non è carino ma sicuramente molto comodo qui invece troviamo un tappetino da gaming per il computer è un tappetone non è un tappetino con la notte stellata di van gogh perché a me piace tantissimo van gogh questo è uno dei miei quadri preferiti insieme ai girasoli e poi ultimo per quest'estate per il mio amichetto Kentaro un tappetino refrigerante perché lui soffre veramente tanto il caldo appena si alza glielo metto sotto e vediamo se lo approva ragazzi che dire Temu anche questa volta ha fatto centro e io sono ufficialmente innamorata di tutti i miei nuovi acquisti quindi i miei 130 euro non sono andati in fumo anzi posso dire con orgoglio che il portafoglio ho fatto la rima posso dire con orgoglio che il portafoglio non piange troppo ma ora tocca a voi se volete provare l'ebbrezza dello shopping intelligente vi ricordo che potete inserire il codice DMP 7652 sulla barra di ricerca di Temu oppure potete cliccare il link che vi ho postato giù in descrizione questo però è valido solamente ai nuovi utenti in app e avrete uno sconto del 90% sugli articoli che ho ordinato più un ulteriore buono di 100 euro fidatevi che con lo sconto sembra sempre tutto più bello noi ci vediamo alla prossima e fatemi sapere giù nei commenti che cosa avete messo nel vostro carrello ciao